Ed eccoci qua! E... Pants, va bene. Poi dopo... Non lo so come vi chiamo. Fiorellini, no? Ok? Va bene, vi chiamerò Pompon! Visto che a me mi piacciono i pompon. Oh, amo i pompon! Allora, oggi andremo a fare uno scherzo alla mia amica di nome SonoCute che lo scherzo è che noi non la conosciamo. Ci dovrebbe essere anche Ludo. Per un po'. Non voglio andare su dress up. Infatti qua ci sono... Ma... Vediamo, vediamo. LUDO! Dov'è Ludo? Dov'è mettere la sportiglia da lei? Siamo qua da Ludo. Si è stato proprio prima che è inviata la skin. E quindi eccola. È scritto ciao! Ciao raghi! Ludo! Ludo, ora partiamo sullo scherzo. Io ho scritto anche shh per non di... Cioè perché ho scritto in chat che partiamo con lo scherzo e ora ho scritto anche una pagina. E ora... ora mi devo teletrasportare. Ed ecco, ci stiamo teletrasportando da SonoCute che per ora non la vedo ancora. E la madonna è qua. Io vado a fare un... 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 un trade che lo sono... sono in live, ok? C'è, ma che cazzo? Allora, è qua. Ecco, ecco qua SonoCute. SonoCute non la vedo perché ce ne sono 300 attaccatello in Ludo. e... Lei sonoCute. Eccola qua SonoCute. Comunque SonoCute... No! SonoCute! SonoCute! Ora lì dobbiamo scrivere... Ma chi sei? Io ho scritto Ciao perché sei nella mia lista di amici? Io... che non... ti conosco. SonoCute e mi ha fatto un trade. Va bene! Io ho scritto Io non ti conosco ma sei nella mia lista di amici. Lei ovviamente ha scritto Come? Come? Io ho scritto Giuro non ti conosco. Ti avevo aiutato a quella cosa della sirena. La sto facendo preoccupare e gli ho detto Chi? Quale sirena? Basta! Però gli ho scritto Non ti ho mai vista. Gli stiamo dando sul peggio e gli stiamo facendo preoccupare però lei non se ne importa. Mi viene importato ma la sto cercando di inseguire e le voglio chiedere una cosa. Gli ho chiesto Tu mi hai mai visto? Io no! E ora li svelerò? Penso che dovremmo parlare e dirle C'è uno scherzo e che non so non so se se la prende male Ludo che io le l'ho già detto Dov'è Ludo? Eccola Oh cazzo che lo spiega Ludo che lei mi ha tolto l'amicizia Ludo Allora io le l'ho detto e lei ha detto Ah E non so proprio se Scherzo fallito raghi Chi è Maggie? Chi sei? Ma infatti Non è una poliziotta di ecco quella Comunque Raghi lo scherzo è stato fallito perché mi ha tolto l'amicizia e sono cute Quindi immagino che ora non potremmo più andare da lei perché visto che mi ha tolto l'amicizia non so più come ridargliela Vabbè Ciao raghi